Carissimi amici della Paganotomia e dello stile dell'orologeria, questo è il canale che vuole in realtà essere un'evoluzione di quello che è stato fino ad oggi parlando anche di qualcosa che non sia esclusivamente la rasatura ma che ovviamente abbia come focus la rasatura e non solo. Il video di oggi è un video infrasettimanale perché domenica se riesco mi rado, se riesco perché non posso garantire perché se ne ho tempo tutte le domeniche però se riesco mi rado e innanzitutto come sempre se volete aiutare il canale ci sono tutte le risoluzioni in descrizione, ci si può anche abbonare a due soldi insomma per poter appunto esclusivamente acquistare prodotti da recensire, non c'è niente di segreto. Però non ti per la barba e non altro. Oggi tratteremo un argomento che secondo me è interessante, c'è che cosa in una società ormai massificata verso il basso, cioè nel senso che noi viviamo in una società, apro un pop-up, mi scuso se la qualità del video non è eccellente ma sto registrando con il computer e la telecamera del computer non è eccezionale, non ho grandi mezzi di registrazione per poter fare al di là del telefonino che però uso esclusivamente su un supporto in bagno. Chiuso papà, noi viviamo in una società low cost, ora un mio professore di economia anni fa mi disse una cosa che oggi, che all'epoca pensavo fosse una stupidaggine. erano i tempi in cui iniziavano i primi voli low cost, no? Si poteva andare, se si aveva fortuna di trovare il posto, ma come adesso anche, voglio dire, si poteva andare in Europa ma non solo a pochi soldi, no? 20, 30, 40 euro. Poi pagavi il bagaglio, pagavi questo, pagavi quell'altro, ma comunque alla fine pagavi poco. Si faceva, si poteva acquistare prodotti che prima costavano centinaia e centinaia di euro a prezzi molto bassi, io penso agli occhiali, no? Io uso gli occhiali, tra l'altro adesso non ve li faccio vedere perché fanno ridere, ma ho dovuto anche mettere gli occhiali da computer perché avevo uno stress visivo che l'oculista mi ha ignosecato, perché, leggermente miope, leggermente astigmatico, ma leggermente, questo mi portava a avvicinarmi troppo allo schermo e quindi a stressare perché c'era una luce blu e viola, no? Comunque ho preso questo paio di occhiali che mi consente di leggere lo schermo un po' più all'istante e con la protezione della luce blu. Però una volta tutto questo costava tantissimo, cioè io mi ricordo il mio primo paio di occhiali, comparato negli anni 90, perché poi io ho avuto la fortuna che ho ereditato questa miopia, questa astimizzazione del mio papà, ma non è mai peggiorato, quindi in realtà oggi ho la stessa correzione che è bassissima, però è importante, cioè senza quella operazione vedo male, cioè non è che non vedo, vedo male, un paio di occhiali oggi diciamo che se non si vuole andare su Marche, è chiaro che solo vuole l'occhiale di Prada, l'occhiale piuttosto che di Gucci, Tom Ford, dico il mio caso, paga di più, è ovvio, la montatura, ma un paio di occhiali normale oggi diciamo che con, se non c'è una correzione clamorosa, sui 100-200 euro massimo, ecco, non so se si vuole una cosa di grande qualità. Su internet si trovano invece occhiali con lenti graduate, fatte anche bene, perché ho provato a farne una, va veramente a 40-50-60 euro, ecco, contatura, lenti, lenti antiriflesso, quindi viviamo in una società allo costo. E cosa mi diceva quando il professore mi diceva, attenzione, che tu adesso sei contento perché vai a Londra con 50 euro, dico per dire, ma ricordati che in una società allo costo, prima o poi sarai anche tu allo costo, perché non è che, cioè, alla fine i soldi sono qualcosa che girano, che se ne girano pochi, alla fine ne girano pochi anche per te, perché non è che tutto lo costo meno la tua lavoro, no? Quindi, devi stare molto attenti al discorso del low cost, quindi, parentesi. Ma perché parentesi? Perché in una società così massificata verso il basso, in cui si tende, giustamente, perché c'è la crisi, perché ci sono stati degli eventi, a parte che la crisi c'era sempre, mio papà mi ricordava che la crisi, dopo, diciamo, il famoso boom, perché anche qua, mi fanno un distingo, oggi tanti ragazzi, ma anche non ragazzi, parlano dei 45 anni, dicono i boomer, non è così, cioè i boomer sono coloro che hanno vissuto veramente il boom economico, cioè quelli che sono nati negli anni 40, 41, 45, e che avevano 20 anni, 18 anni, quando c'è stato veramente il boom economico, dove veramente c'era per tutti. Già la mia generazione sfiora quella dei millennials, perché è molto vicino, è generazione X avanzata, quindi anche stare attenti alle parole, il boomer, il boomer è quello che secondo molti non sa fare una mazza, cioè non sa usare il computer, non sa, usa il cellulare, quello ancora che si apre con i tastini, senza neanche, per dire, Whatsapp, cioè il boomer è considerato il vecchio, ma in realtà il boomer non è il vecchio, cioè è il vecchio, ma non è il vecchio che viene definito in quella, scusate il gioco di parole, in quella accezione, cioè non è il, a parte che un 40-50enne oggi è un nativo digitale, perché io che sono in quella fascia d'età posso dire che mi considero un nativo digitale, perché quando iniziarono a entrare sul mercato i primi oggetti digitali veramente, i videogiochi, l'Atari, l'Economia Cato, lo Spectrum, il Commodore 64, per far girare questi, e molti di voi se lo ricorderanno, cioè ci voleva pelo, cioè non è come adesso che metti il disco, e parte il gioco, dovevi digitare la cassetta, quindi io oggi ho un'intuitività nell'utilizzo di questi oggetti, maggiore di quella che hanno molti ragazzi, anche se sono più veloci, cosa va detto, perché io ho iniziato con cose che erano difficili da utilizzare, dovevi metterci veramente la testa, qui oggi basta metterci una cartuccia, basta metterci, c'erano anche all'epoca, però basta metterci un cittima nemmeno, basta scaricare da internet e hai il gioco, comunque, chiuso la parente. Cos'è il tema di oggi? Cosa in questa società massificata verso il basso rende distintivo un uomo, può rendere distintivo un uomo? Ora, io non ho voluto utilizzare, farvi vedere cose particolarmente care, particolarmente preziose, perché, a parte che quelle sono in cassetta, quindi ne avrò uno, perché se no in casa basta che arrivi un ladro e ti ruba tutto, le cose belle, insomma. Ma che cos'è che distingue? Cioè non servono i soldi. Beh, partiamo dalla razzatura, cioè una razzatura tradizionale e istintiva. E' istintiva perché comunque sono in pochi che la praticano e sono in pochi che ne capiscono, oggi mi sono appena fatto la barba, mi sono appena fatto la barba, e che ne capiscono la differenza, sia in termini di benessere personale, quello che oggi viene chiamato awareness, sia in termini anche di resa, cioè anche la profumazione, la scelta dell'aftershave, la scelta delle viti. Ora, secondo me, non ci vuole. Noi siamo dei fissati, dei appassionati, acquistiamo combustivamente tanti oggetti che io poi, in questo caso io ne ho venduti molti, perché ho capito che erano poi uno uguale all'altro, come resa, no? Quindi era sufficientemente un collezionismo che però, secondo me, era un po' sterile, no? Però, ad esempio, dovessi dire a una persona che mi chiede Marco, ma cosa posso prendere per avere due, per avere un'alternativa e per non spendere una fortuna, ma io gli consegnerei subito ovviamente un classico Müller R89, scusate, che è un rasoio veramente utilizzabile da tutti, veramente morbido, veramente efficace. Questo è un rasoio che mi ha fatto serenamente barbe di tre, quattro giorni senza particolari problemi. È elegante, con la società mule, c'è il suo, diciamo, alter ego che è l'elvin jagger più economico, io vado a vedere il mule, che è quello, diciamo, un po' più elegante, se vogliamo, a livello di storia, a livello di... però sono la stessa cosa, fondamentalmente, come testa, e un rasoio che è assolutamente consigliabile, perché è un rasoio che va bene per tutte le stagioni, quindi chi vuole avere un rasoio di sicurezza di E, double age, quindi le due uscite per la metta, per me la prima cosa che consiglierei è averne uno, un mule o un lind jagger. Per chi volesse variare, ecco, cioè parliamo di persone normali, non parliamo di appassionati, io consiglio questo eccezionale, secondo me, Icon, Slant, che è veramente un rasoio molto, molto, molto docile e molto efficace. Ora, io credo che... qualcuno l'ha chiamato semi-slant, mi sembra, se non erro, ma non è semi-slant, è uno slant, che vuol dire che non è, vedete, non è simmetrico, quindi fa un po' di effetto ghigliottina, però questo è morbido, questo è delicato, questo è... adatto a ogni rasatore che si approcci, magari, ecco, dopo un po' di pratica, con quello normale, non è assolutamente, per dire, del B1, ecco, che invece è più... come si dice, aggressivo, ora, non esiste un rasoio aggressivo, e i rasoi sono oggetti, non mordono, non sono cani, non sono leoni, non sono... cioè, non è il cane aggressivo, il leone aggressivo, il rasoio va usato. Chiaro che un rasoio morbido, un rasoio scorrevole, un rasoio che non crea un problema, diciamo, mentale, dell'utilizzo, di non stare attenti e non farsi troppo male, per me è preferibile, anche perché poi alla fine il risultato è lo stesso. Poi uno mi dirà, ah, ma io con una passata dell'R41, per dire che è una rasoio che a me non piace, chiaramente, faccio tutto, ma ho capito, ma io la faccio anche con una passata di questo, di questo qua. Io ho fatto barbe di tre giorni, con una passata, una passata e mezza, ecco, massimo. Quindi basta semplicemente avere un po' la mano, le lamette sono importanti, beh, stiamo ripetendo l'ovvio per noi che cambiamo danni di rasatura. Io consiglio lamette Styless, consiglio l'Astral Blue, però, quindi già la rasura tradizionale con i profumi, con non il solito dove barba, quello da supermercato, che va anche bene, non è in questione, ma è chiaro che se uno si presenta al lavoro, in società, con un profumo importante, insomma, si distingue, ecco, questo è un problema di distinguersi, no? Dalla massa. Altra cosa che è distintiva è, secondo me, l'orologio. Ora, io non ho voluto e non voglio mostrare l'orologio, ripeto, di estremo lusso, perché sono esagerazioni, sono, secondo me, sono gesti straordinari, ma sono, sarebbe un consiglio secondo me sbagliato, per un semplice motivo. Detto che se uno ha i soldi e è appassionato si può comprare tranquillamente un orologio a 300.000 euro tenerselo protetto, chiaramente, però, intanto, il rischio di furto, di borse, di strappo è elevatissimo. Guardatevi su YouTube, scrivete furti e orologi, vedete come fanno, cioè, ci sono bande che ti seguono fino a casa, bande che ti bloccano una macchina come nei film americani e ti riempiono di botte per star parte dell'orologio, quindi, andare in giro con marche importantissime da 300, io non le voglio fare, ma le sapete, è abbastanza da vedere, 200, manca 50.000 euro, manca 20.000 euro, cioè, io alcuni li possiedo, ma, ovviamente, li tengo in banca, ma, se parliamo di pezzi che sono pericolosi, cioè, nel senso che, comunque, un conto è averli, un conto è portarli, poi, ognuno può scegliere quello che vuole, c'è chi mi dice, ma io sono pratico questa disciplina, ho capito, ma quando ti trovi uno con un coltello davanti, vi assicuro, o una pistola, vi assicuro che, oppure che vi prendano improvviso, uno vi tiene fermo e l'altro vi porta via l'orologio, ci mettono 30 secondi, guardatevi video, quindi io non consiglio di andare in giro con un orologio molto cari, e molto, come dire, commerciali, cioè, nel senso che, non faccio nomi, ma sono marche, ad esempio, con la coroncina, che non è che costino così tanto, parentesi, l'altro giorno, uno mi scrive, ma tu, ti puoi permettere un orologio da mille euro, l'orologio da mille euro, è un orologio considerato da sfigati, cosa che non è, attenzione, pensate che nel mondo dell'orologeria esistono i PMW, che vuol dire purman watch, gli orologi da poveri, fino a qualche anno fa, l'orologio da povero era l'orologio dai mille euro in giù, oggi, che i listini si sono alzati, l'orologio da povero era dai 1500 euro in giù, quindi vuol dire mille euro per un orologio è niente, cioè, poi, attenzione, stiamo parlando di segnatempo, quindi, qualcuno mi dirà, eh ma io, un orologio da 50 euro, uno swatch, va benissimo, ma certo che sì, però, chiaramente, l'orologio ha perso, la funzione del segnatempo, oggi il tempo ce l'abbiamo con il telefonino, ce l'abbiamo con mille altri dispositivi, è un orpello, è uno dei pochi orpelli che l'uomo può esibire, può godersi, può esibire, perché l'esibizione non è il fine, cioè, se non veramente da quel punto uno si va, va in giro con orologi, appunto, anche molto più, più cari. Ora, io cosa consiglio, anche lì, di distinguersi, non la massa, cioè, evitare, sempre al solito, non voglio fare i nomi, guardate in giro, io, che sono un appassionante degli orologi, noto, noto questa cosa, tutti hanno, o, quell'orologio famoso che va sott'acqua con la corona, vero, falso, non lo so, perché poi oggi producono anche dei falsi che sono quasi indistinguibili alla vista, anzi, senza quasi, oppure, diciamo, delle, diciamo, copie, degli omaggi, come si dice, degli orologi di, di marche, magari, non tanto, un po' scadenti, che, riprendono quella linea lì. Io dico, distinguiamoci, e come ci si può distinguere? Intanto, con qualcosa di, che ha una storia, cioè, marchi che hanno, che hanno, ha, detto che tutti i marchi importanti hanno una storia, eh, tutti nascono più o meno a metà dell'ottocento, insomma, fino a ottocento, ma, ad esempio, io ne pongo due, poi, vabbè, sono varie dimensioni, uno, ad esempio, sarà che a chi piacciono gli orologi, diciamo, più, eh, più, marini, più, più, sportivi, questo, eh, è un, Longin, Idrocon, questo, questo è un prezzo ancora accessibile, eh, stiamo parlando di un, cari Proeta, stiamo parlando di un orologio che va giù, se non erro, adesso vado a vedere esattamente, perché poi non è che uno, eh, vedete la sua corona, questo è un orologio che va giù, a, eh, scusatemi, ma, la mia vista, purtroppo, si sta, questo è un orologio che va giù, a, eh, a trecento metri, da, non vuol dire che è ben costruito, perché nessuno di noi andrà, cioè, ora, nessun sub, sia chiaro, io ne ho conosciuti, sub professionisti, poi è automatico, non chiaramente questo, nessun sub professionista, va, va in immersione a trecento metri, con un orologio meccanico, ma perché, perché, vanno con strumenti tecnologici, chiaramente è un, appunto, è un vezzo, questo è un on-jean, marca storicissima, considerate che Einstein, aveva un on-jean, eh, poi ha avuto un momento in cui, ha avuto, diciamo, una sorta di crisi, gli appassionati non lo apprezzavano più, cosa che secondo me invece, produceva ancora ottimi orologi, vedete qua, il fondello, eh, l'on-jean, c'è anche scritto, c'è anche scritto, vedete, eh, tutte le, eh, tutte le varie caratteristiche, eh, il vetro zaffero, che, eh, è un vetro che, eh, ha le caratteristiche di non, diciamo, di minimizzare i graffi, questo è un 43, se non erro di, di diamo, per polsi grossi, insomma, vedete sul mio polso, che è un polso da 18,5, eh, quindi non è enorme, è grande ma non enorme, eh, sta bene, insomma, non, ci sta, insomma, qua c'è questa, classica, eh, chiusura longina, però, insomma, non è una cosa che ci sta, quindi, eh, senza andare a spendere una fortuna, è chiaro che è caro, eh, cioè, non, è caro per chi ha in mente, eh, prezzi, no, c'è chi mi dice che, mille euro per un orologio sono tanti, eh, allora sì, questo è caro, ma, secondo me, eh, se uno, ad esempio, questo è il secondo polso, cioè, eh, usato, eh, trova delle occasioni, l'importante è che questo è un orologio sottovalutato, in maniera, secondo me, ingiusta, io ve l'ho fatto vedere proprio apposta, proprio per dire, non andate a cercare cose, no, che sono pompate dal mercato, questo è un orologio sottovalutato, ma che è un orologio, secondo me, eh, che sfiora la perfezione, secondo me, eh, poi anche come meccanismo, non so quanto. Ma c'è un'alternativa, che è ancora più distintiva, secondo me, il vintage, il vintage, eh, cioè, allora, parliamoci chiaro, eh, io ho, eh, tra quello spesso la metropolitana, e guardo cosa la gente porta al polso. Ora, noi abbiamo, ma veramente, più di un 50% che ormai usa lo smartwatch, che secondo me, non è un orologio. Eh, mi direte, ma, eh, se è un po' antico, no? Perché io, ad esempio, questa banda, questo è, adesso, perché, io uso di solito il Fitbit, però questo qua, mi si è rotto, verso questo Amazon, questo mi dice tutto, il cuore, i passi, però, lo uso sul polso destro, è una banda, non è un orologio, sì, sì, segna anche l'ora, volendo, però non è un orologio, è un'altra cosa, questo è un personal tracker, che va benissimo. Eh, vintage, eh, io cosa ho scelto, per farvi vedere, ho scelto questo, questo è storico, è uno zenith, degli anni settanta, del settanta, credo, anche, addirittura, i primissimi settanta, che è stato riproposto anche in chiave moderna, adesso, questo qua è, è uno zenith de phi, de phi, eh, eh, spero che si veda, guardate che grigio, guardate che, che tonalità di grigio, che poi, tende a scurirsi, eh, è ancora, diciamo, integro, eh, eh, tiene ancora l'acqua, questo qua, ad esempio, questo qua, si chiamava cassaforte del tempo, se immaginate, cassaforte del tempo, perché, eh, andava anche questo qua, 300 metri, perché, eh, ha, ha un fondello, chiuso, ermeticamente, eh, come tutti, ma questo qua ancora di più, eh, corona, eh, vite, doppia guarnizione nel, nel vetro, che dovrebbe essere in, in esalita, in quando in quegli anni, non, orologio precisissimo, devo dire, per l'età che ha, revisionato, chiaramente i pezzi di erogito vanno revisionati, e, eh, ora, eh, dicevamo, tutti usano lo smartwatch, 50, 60%, io lo vedo in unità, un altro, 20%, usa orologi al quarzo, contro i quali non ho nulla, e una volta faremo, magari, una puntata sui quarzi, eh, guardate che eleganza, guardate che, con questo azzurro, ad esempio, un braccialetto azzurro, e questo grigio, secondo me, è la morte sua, o anche un braccialetto arancione, per dire, no, ecco, io trovo che sia, una, quindi, gli appassenti di orologi sono pochissimi, se no, mettiamo un, facciamo un 60% di smartwatch, guardatevi in giro, non è che, un, 20% di orologi, comprati all'ipermercato, cioè, nulla di che, e rimane, eh, un 10, 20, 15% di appassionati, che però, vedendo uno che, ah, indossa questo orologio, dice, beh, questo è uno che se ne intende, cioè, non è quello che si compra, eh, il classico, no, quello che, vogliono tutti, che poi in realtà è commerciale, cioè, magari questo di orologio non capisce niente, ma, un orologio così, vuol dire che tu, insomma, padroneggi, guardate i capelli che sono ribelli, se non è la mattina, eh, padroneggi la, diciamo, la materia, eh, dell'orologeria, e, eh, conosci, ti distingui, e questo è il problema, non dovremmo distinguersi, no, distinguersi dalla, dalla massa, distinguersi dalla massificazione. Terzo accessorio che, eh, io, eh, trovo assolutamente indispensabile per distinguersi, è la penna stilografica. Ora, mi rendo conto che può essere scomoda, che può sporcare, però, non è così, cioè, in realtà, basta utilizzarla in maniera, eh, appropriata, insomma, no? Eh, ora, io, quando vedo una persona che mi firma un contratto, che mi firma un, eh, un documento, con una, 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 una BIC, cioè, non è diverso che, eh, una persona che tira fuori dalla taschina una penna stilografica, cioè, io lo trovo, eh, quasi emozionante. Ora, io ne ho proposte due, adesso, oggi, che non sono le classiche, anche lì, marche, clamorose, tedesche, quelle che vogliono tutti, perché, no, le ho anche, le ho anche, ma, eh, lui andrà a pensare a cose, diciamo, più, normali. E io, ne ho proposte due, questa pelican, che è, grossa, è una rossa penna, questa è una penna, più che altro, diciamo, una firma, diciamo, enorme, vedete che, guardate che pennino d'oro, eh, enorme che ha, ma scrive veramente, da dio, questa è una penna a stantuffo, cioè, praticamente, l'inchiostro viene prelevato, ovviamente, l'inchiostro, proprio il bocettino, viene prelevato, attraverso un meccanismo di, di stantuffo, e poi viene utilizzata, questa è la M1000, credo che sia la M1000, rapporto qualità-prezzo, ottimo, anche se, chiaramente, non è regalata, però, stile, secondo me, scusatemi, oddio, stile, eccezionale, guardate questo, questo verde, questo nero, questo oro, penna veramente, che c'è anche in dimensioni più piccole, no, c'è anche, modelli più piccoli, da poter portarsi, con più facilità, in giro, questa è una penna, della sua schivania, secondo me, no, però, è effettivamente, una penna eccezionale, ecco, non ho voluto, appunto, proporre penne, dal valore, se no, che penne, da 10.000 euro, però, parliamo di cose pratiche, parliamo di cose, questo è già istintivo, cioè, uno che si propone con una penna del genere, e la gente dice, questo è uno che, che c'è, cioè, che è diverso negli altri, no, per tutti i giorni, anche qua, penna, comunque, non regalata, ma nemmeno costosissima, un'Aurora, è, è italiana, italianissima, optima, questo è più piccolo, guardate la differenza fra, no, vedi la differenza, aspettate che, forse riesco, ecco, questo è più, da tutti i giorni, più da, veramente, veramente, del taschino, anche questa, ha un meccanismo, stantuffo, perché, sono le, vedete, lo stantuffo, questo è il serbatoio, dell'inchiostro, il fascino, di queste penne, da stantuffo, poi ci sono anche quelle, la cartuccia, non è questione, e, quello di poter, scegliersi i colori, ma ce n'è una infinità, se voi andate in un negozio di penne, e, chiedete, di vedere dei colori, ogni marca, sfumatura, su sfumatura, c'è una cosa, impressionante, il pennino, va scelto, generalmente, si usa il medio, il fine, adesso questo, mi sembra che sia un, mi sembra che sia un, un medio, insomma, anche questa, scrive molto bene, guardate la greca, contraddistingue la, la clips, penna italiana, penna eccezionale, distintiva, ecco qua, se io, vedo una persona, che mi tira fuori, una penna del genere, dico però, questo è uno che, non va a seguire le mode, non va a seguire, non la usa per sfarza, non la usa per farsi vedere, chi lui ha, la usa perché, è una persona, che si distingue, ecco, diciamo così, quindi sono queste tre cose, fondamentalmente, che io trovo, distintive, e che, credo che, questo è una mia, è il mio consiglio, il mio, il mio sentiment, come gli americani, che l'uomo moderno, di fronte a questa massificazione, questa, questo appiattimento, verso il basso, verso il low cost, che va anche bene, perché non è che siamo tutti, anzi, siamo tutti poveri, quindi, è giusto spendere poco, ma è anche giusto avere qualche cosa, che ti distingue, che ti, che fa sì che le persone, dicano, guarda questa persona, non è come tutte le altre, perché comunque, ha delle attenzioni, su certe cose, che sono, forse, 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 diciamo, di altri tempi, ma non credo, cioè, che non hanno età, che non hanno, che non hanno tempo, ora, io sono andato lunghissimo, ci sono tante, anche altre cose, che distinguono, diciamo, l'uomo, che possono distinguere l'uomo, le proposte tre, vi ringrazio, e spero di darci prezzo, con la barba, ricordo che, abbiamo chiuso, la raccolta di fondi, possiamo prendere, chiaramente un'altra, che chi vuole, che ho attivato, anche questo piccolo abbonamento, semplicemente, esclusivamente, per acquistare prodotti, andate sulla pagina, Facebook, degli amici, della popolotomia, trovate in alto, in evidenza, il sondaggio, per quale sapone, acquisterò, con i proventi, della raccolta fondi, al momento, mi sembra che sia in vantaggio, il bar, il serra e il man, il gotica, credo che sia questo, al momento, in vantaggio, io chiudo, la votazione, sabato, a mezzanotte, lunedì o domenica, effettuerò l'ordine, così almeno, magari, se arriva in tempo, insomma, riusciamo subito, a recensirlo, poi, vedremo, come fare, dopo un po' di, di mesi, perché non voglio fare una cosa, perché non ho tempo, di andare alle poste, di fare, magari, una riffa, e, dare, questi oggetti, in particolare, a chi ha, contribuito, a questa cosa, io vi ringrazio, vi saluto, spero di essere stato utile, spero di aver fatto, una trasmissione, lunga, ma, significativa, distinguetevi, 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 perché, viviamo in una società, ripeto, massificata, verso il basso, e, chi si distingue, secondo me, oggi, ha una marcia in più, ciao a tutti, non vi dico buona barba a tutti, perché ve la sarete già fatta, e, ci vediamo alla prossima, ciao!